Cari Bassanesi, sono Raffaele Grazia. In questi anni, come consigliere in regione, ho rappresentato il nostro territorio. Ho dato voce ai cittadini, alle imprese, alle amministrazioni locali. Rappresentare bisogni ed interessi è uno dei compiti fondamentali di un consigliere regionale. La politica deve riscoprire una maggiore capacità di coesione e di rispetto tra chi si impegna nell'attività amministrativa e di una maggiore collaborazione tra le forze politiche. La politica fatta per slogan resta sterile. Mi piace operare in prima persona, portando avanti le idee e le proposte, anche quando diventano scelte scomode. L'importante è raggiungere obiettivi concreti. Sono una persona libera, contro gli estremismi, da sempre un moderato e ho scelto di schierarmi con una forza politica che più rappresenta i miei valori. Oggi, più che mai, è importante l'equilibrio. Questo è il significato di centro. La persona è al centro di tutto. Così come io, prima di essere un rappresentante politico e delle istituzioni, prima di essere rappresentante di un simbolo, sono una persona con una chiara identità e con precisi valori, che sono la trasparenza, il rispetto, il coraggio. Allo stesso modo il territorio che rappresento ha un'anima forte e al centro c'è sempre comunque la persona. Viviamo una stagione di paure e di preoccupazioni. Fino a qualche tempo fa, anche in questo nostro ricco veneto, eravamo tutti convinti che si potesse solo crescere. Oggi, purtroppo, la realtà ci ha messo di fronte alla perdita di certezza. C'è bisogno di una nuova politica. Una nuova politica che coniughi lo sviluppo economico e la solidarietà. La possibilità di utilizzare meglio e di più le risorse che produciamo, pensando alla salvaguardia anche dell'ambiente. Serve un federalismo vero per garantire futuro ai nostri figli. Serve una politica non di chiusura, ma di apertura del Veneto verso il contesto internazionale, senza timori e soprattutto senza nuovi muri. Il mio impegno è per un Veneto che cresce. Voglio riportare la nostra regione al centro del mondo economico, del mondo politico e sociale, con la passione e l'interprendenza che conta a distingue ogni cittadino veneto. Raffaele Grazia, consigliere regionale. Ho 43 anni e una consolidata esperienza amministrativa. Sono una persona libera, pronto a rappresentarvi con coraggio. Pretendo rispetto per la nostra provincia, per le nostre imprese, i comuni, i cittadini, donne e uomini di valore, che meritano il meglio. Per questo continuerò a battermi. Fai centro con Grazia. Per Bassano, Vicenza e provincia, scrivi Grazia e vota UDC.